Ciao a tutti e ben tornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come incrementare il download su Epic Games grazie ad alcuni comandi e ad alcune modifiche alle impostazioni di Epic Games e se scrivete questo comando su esegui oppure aprite esegui con tasto Windows più R andate su app data quindi per cento app data per cento scendete fino in giù finché non trovate la cartella Epic Games Launcher andate in questa cartella sempre qui sempre su Windows poi andate sul documento engine in descrizione vi ho lasciato un comando da inserire in questo documento inseritelo così facendo possiamo modificare le impostazioni su Epic Games visto che nel documento era vuoto ora dobbiamo solamente salvare questo documento chiudere questo documento e passare al prossimo procedimento quindi andiamo un attimo sempre su Epic Games sul nostro profilo su impostazioni scendiamo fino a giù fino a trovare gestisci velocità download come potete vedere se io adesso metto 10.000 kbps faccio 10 MB al secondo ovviamente io ho la connessione che va a 13 MB al secondo se metto 2 MB al secondo quindi poi dipende anche dalla vostra connessione, dal vostro fibra, dalla vostra wifi quanto è veloce quindi una volta fatto torniamo un attimo indietro perché dobbiamo passare al prossimo passaggio per incrementare questo download quindi andiamo un attimo su gestione attività oppure scrivete qua sopra task manager trovate gestione attività ed eccolo qua una volta andate su gestione attività andate su dettagli fino a trovare questa interfaccia andate su Epic Games su imposta priorità mettete alto così facendo sia il sistema operativo che la connessione si concentreranno così su Epic Games quindi imposta priorità alta e chiudiamo gestione attività una volta fatto ragazzi andiamo un attimo su impostazioni di rete e internet su altre impostazioni di rete e internet avanzate quindi sulla nostra connessione sulla nostra scheda proprietà andiamo su IPv4 perché dobbiamo inserire un DNS un codice DNS quindi gestisci DNS i server cominciate a scrivere 88888844 per darci almeno qualche incremento in più nella velocità dei download su Epic Games ora chiudiamo un attimo questo pannello ora ultimo passaggio è quello di andare su gestione dispositivi oppure scriverlo direttamente sulla barra della ricerca se avete un adattatore di rete quindi una vostra scheda di rete attaccata alla scheda matri dovete aggiornare questo driver oppure facciamo direttamente un aggiornamento attraverso Windows Update se in questo caso non dovesse funzionare fate il disabilito dispositivo e riabilitarlo e poi riavviare il PC quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo incremento dei download su Epic Games ragazzi e se vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like e di iscrivervi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao